Un saluto agli amici di Facebook dell'Ambasciata Americana, sono veramente onorata di essere qui, Michael Mann è un regista straordinario, voi vi chiederete ma chi è questa persona che ci saluta? Allora vi spiego che io ho la disavventura e l'onore di essere il presidente dei giornalisti di cinema italiani e quindi insomma in qualche modo posso assicurarvi che Mann è un personaggio veramente molto molto amato dalla stampa italiana, ho avuto la fortuna di conoscere lo scorso anno a Los Angeles a proposito di Cinema Italian Style che è una rassegna nella quale io porto il cinema italiano con Cinecittà a Los Angeles anzi piccolo spot, partiamo la prossima settimana subito dopo la fine del Festival di Roma per portare il film candidato dall'Italia all'Oscar, come sapete il film di Crealese, Terraferma e poi una selezione di film italiani con l'American Cinematheque quindi insomma diciamo che un po' di Italia la portiamo anche a Los Angeles grazie